Tu stia registrando, questo è il 100% di potenza dell'ICOM C7000 e questo è il parlato, ti dico che l'amperometro dell'alimentatore va su come un matto cioè va proprio su, lo vedi proprio che si alza, arriva oltre quasi anche la metà ti faccio due fischi, ok adesso mi abbasso sempre con il 7000, abbasso, aspetta ecco qua 77% questo è il parlato e l'alimentatore l'amperometro va su già un momento meno però comunque ci sono altre apparecchiature accese di conseguenza va su, faccio due fischi se metto un attimo in pausa cambio apparato ok, eccomi qua, mentre questo qui è l'IC7610, ok? qui l'amperometro si può dire che non vada neanche su, cioè non vedo assorbimento di corrente dopo la potenza se c'è o non c'è, non so dove la tiri fuori perché se non assorbe neanche ma si vede che avrà un alto rendimento e riuscirà lo stesso ti faccio lo stesso due fischi ecco qui, questo torno a ripetere è l'ICOM IC7610 buon bro buon bro